Ciao, ciao amico, ciao No, 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 no Stardo di me Perché sei sempre in mezzo Ogni volta che voglio fare un video sei sempre in mezzo Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video Io sono FabiJ E oggi siamo tornati su Nafra Con Pietro Ciao, ciao Pietro Che praticamente è sempre ben accolto Cretino Vabbè Allora, visto che ha avuto un successo incredibile Ora mi sta serie sta avendo un successo incredibile Io non so perché non ho mai fatto Minecraft Che i money arrivano Che è un piacere qua Ho trovato delle uova qua fuori Che non so il bene di chi sono Delle uova? C'ho delle uova, io te lo giuro C'ho delle uova nell'inventario, vieni Ho trovato delle uova di gallina Che o lei cagate tu Perché ho visto che ti sei accoppiato con le galline O comunque sia ci servono per creare altri polli No, ho beccato il pollo Aspetta Ma può morire un pollo Se continui a colpirlo con le sue stesse uova? Eh, prima o poi sì Sei sicuro? No, dai, non ucciderlo Non ucciderlo È fighissimo Vabbè Dai, bastardo, lo sapevo che lo faceva Lo sapevo che lo avresti fatto Eh, n Vabbè Comunque In tutto questo, ragazzi Nell'ultimo episodio Abbiamo fatto delle cose incredibili Perché siamo riusciti a finire ben Quattro dungeon Quanto era? 3 3 dungeon E stavolta facciamo quello che vi avevamo promesso Ovvero la casa subacquea Che è questa qua di fronte a noi Io prima di entrare Poserei le cose troppo di valore Visto che ho sei archi Ok In inventario Hai cibo tu? Io ho sei pezzi di pane Che in teoria mi bastano Però prenderemo mazzate Quindi no Sì, posso passartene un po' Dobbiamo fare sopra Una sala a deposito Perché non abbiamo Più spazio per mettere niente Ci siamo Direi che L'ultima volta che abbiamo fatto questa a sinistra Stavolta E così utilizzo la copertina In modo abbastanza clickbait Facciamo La casa sott'acqua Che è questa qui Io non ho ancora capito il perché C'è una luce che proviene da dentro Cioè immaginati quello che Che cosa è? SpongeBob? Chi è che vive là dentro? La cosa che volevo fare Era innanzi Perché non si vede bene sott'acqua? Maledizione Volevo fare uno screen bello per la copertina Ah non respiro, non respiro Apri la porta Pirla, no? Si entra Salve Non so se è contento Che siamo entrati Ma poverino Non ci aveva fatto niente Ma non ci aveva fatto niente Magari voleva solo accoglierci Ah a posto Dungeon finito Posso andare via ora? Guarda che figa l'acqua che scorre di fuori Cioè Sta cosa è geniale Senti tu che fai sto casino No Eh Ci volevo fare No è un venditore di porte Smettila di infortunare Salve Questo invece vende pale Salve Miracle Blade Questo vende carne Cioè tutti ci hanno qua sotto Senti A parte trovare venditori di cose Questo Io tornerei su È una bella idea Ma ritornare su Sparroca vacca Che cosa c'è qua sotto? Non lo so Non lo so Dobbiamo prepararsi psicologicamente Guardiamo se c'è qualcosa qua sotto Buon bravo Eh me lo sapevo Io sono Sherlock Holmes ragazzi Su ste robe Tre di diamante Prendi tu Prendo io Andiamo andiamo Tu sei muore è colpa tua Ok Ma dai quanto è grande Sto dungeon C'è una strega La strega La strega Se sei idiota Lo saprai anche tu Madonna che male Che male Che male Che male Pensavo fossi morto tu Per un attimo Ho goduto di brutto Fermi Calmati Perché non è diventato The Walking Dead Sto video Calmiamoci Qua c'è un altro zombie Ma perché tutti vanno a sfondare le porte Quanti zombie Ho sentito solo Psss Ah no Ah è morto È morto Perfetto No Quanta gente c'è in sto posto Maledizio Oddio Basta Avete rotto le balle Quante persone Occhio c'è una strega Metti le torce intanto Non ho torce Come non hai torce Mi ha colpito Mi ha colpito Maledizione Mi ha fatto male cane Mi sa Ma invece no Ho recuperato subito Pietro è pieno Pieno È pieno di Di mostri Di zombie Pieno Ma tu hai ancora la difficoltà Al massimo Vero Eh già Eh lo so Immagino Dove sei? Viene a me Dietro ce n'è uno Ma guardati intorno Dietro ce n'è uno Guardati in giro Vieni con me Seguimi Seguimi Prendi questo Guardati maledizione Intorno Cos'è? Eh vabbè Allora siamo arrivati da qua no? Hai spaccato tutti Sì sì rispondere sì Mi dai delle torce che non ce le ho? Tieni tieni Ne ho solo 30 però Eh vabbè Occhio qua c'è uno Lore C'è qualcosa di invisibile Lore C'è qualcosa di invisibile qua Neanche io Vabbè andiamo avanti Basta zombie Maledizione Io ho controllato tutto Esatto Doveva essere fin da questa parte Andiamo avanti Vieni qua Va bene Lore Aspetta stavo contando se stavo registrando Per Marnia Perfetto Occhio che c'è gente ovunque Passiamo prima di qua Prima di andare in quella Entro dentro Vedo cosa c'è Mi fido È una prigione questa Compagno di cella Che cosa hai fatto per essere qua dentro? Ah ce ne sono due Si ingroppavano Non li avevo visti Eh Vabbè andiamo andiamo Allora sarai Sarai Perché non inventano una macchina di tortura Solo ed esclusivamente per te Grazie Io ci credo in queste cose Perché non Dai No sto uscendo di qua Io faccio come prison break C'è un'altra porta qua Andiamo prima Ah no invece ci sono due Ok Vai Cosa c'è qua Una scala che porta sopra Ci sono due amichetti Che mi sa che ci spareranno tra Ecco Mi ha fatto male Se ti interessa saperlo C'è ancora vivo eh Ma ammazzalo Ma è andato C'è un occhio di ender qua Se vuoi Aspetta quanto quanto 20 secondi mi dura Muoio Muoio Non puoi morire con quello Ah non posso morire No no non puoi Gli lascio un cuore Vai Andiamo in questa porta Va bene Ho quattro cuori Ma vabbè Eh bene Perfetto La partenza è buona Ok C'è un altro creeper Occhio Scusa su creeper Ok Buono Torce C'è una leva qua Ah era per accendere la luce Abbiamo fatto Abbiamo finito Sì abbiamo finito Oh mio dio La casa sotterranea L'abbiamo completata ragazzi Hai tenuto la difficoltà al massimo Vero Sì sì Allora siamo anche migliorati Rispetto ai primi Pisoni Eh siamo forti ora Sucavamo di brutto Direi di uscire Mi cazzo sei già lì Ma come fai a correre così No 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 Non uscire Non uscire Non uscire Non uscire Ma stanno guardando Breaking Bad Ahia schiazzavo Vedi sei un cretino Fai qualcosa Ok Una volta ho bevuto Il tè giapponese Ti giuro mi ha fatto Lo stesso effetto Che schifo Ma fa veramente schifo Te lo giuro Ma anche si fumavano Il bong Ma come Guarda Guarda un secondo Vuoi vedere il bong Eh appena ho sentito fumare Pietro subito Bravo Pietro Non intendevo questo Eh sì Non intendevo questo Tanto hanno il camino Cosa gli serve Che sono sott'acqua Perfetto Cartello Next Dai Andiamo a dormire Prima che è notte Eh ogni volta è così Come hai fatto a fare tutto questo Stato Ah ne hai fatta un'altra Non l'avevo vista Eh beh Non l'avevo vista giuro So ogni tanto Non l'avevo da dormire Penso che Buongiorno Andiamo Allora Abbiamo fatto Quello tutta a sinistra L'abbiamo fatto Poi questo qua era Il A regà buongiorno Quindi il tempio romano Abbiamo fatto anche questo Sono due Allora questo qua L'abbiamo fatto No No questo cos'è Water temple Non l'abbiamo fatto E guarda il tempo Mancano questi due Ok Facciamo guarda il tempo Il primo Vieni qua Vieni qua Guarda il tempo Difficulti Easy È facile Ma non riesco Manco a vederlo Quindi Facile cosa Ah eccolo Lo vedo Lo vedo È davanti a me Subito dentro Fa Vai Entra Grazie Senza saperlo Bene Ma sai che me l'avevo Dimenticato Ma anch'io Fantastico Fantastico Bene E allora guarda il tempo Alla posto Eccoci Allora Mi mettiamo subito il cartello Già fatto Per fortuna ci sono io Si sono convinto che siamo fortunati per questo motivo Mancano water temple E a questo punto dragon slave Quindi water temple Next one Subito così Fammi mangiare che ho fame Queste spedizioni da boy scout richiedono un sacco di forze Amico Ti prendi questo Non vedo Cosa? Aia No Un pollo Ciao pollo Cosa ho appena Ma no ma puoi Stavo andegando Stavo soffrendo Eh vabbè puoi lì Madonna che brutta cosa Che aiuta Aiutami Aiutami Pietro Pietro Aia che male Aia Cos'è Madonna che dolore Aia Pietro Fai dentro anch'io Fermo 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 E fermo una sega Pietro Poi sempre su delle cose Fermo ok Buono 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 Non pisi Sono cagato malissimo Un parte che era già aperto qua Hanno restato il creeper Una cesta con dentro di diamanti Nero di seppia E nel metto con respiration 3 Mio Puoi respirare Con l'elemento respira Che non so No però tipo Ti durerà molto di più L'aria Ma da quanto è grosso Eh lo so No abbiamo un casino E pieno di acqua Ci serve la spugna E una volta si Orca vacca Ci sono quei cose Che c'erano anche nel primo episodio È una parte Sì sì Il primo episodio Abbiamo fatto una parte Di questo dungeon Ti ricordi Ma ne sei convinto Secondo me sì Quanti spin off in questo video Qui noi siamo morti Mamma mia che ricordi Quante cose stiamo scoprendo Ma tu sei già passato di qua Scusami No È questo il primo Ah questo è il punto Ad cui eravamo entrati Che figata Incredibile È vero Ma dai Ma quanto siamo orbi Per non aver visto Tutta sta roba Eh stavamo volendo Non avevamo visto Che il dungeon proseguiva di qua Ma si è scemi Completamente Guarda qua quanta roba Aspetta 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 di varia con me Con te Ce la fai ucciderlo? Bravissimo Sì ce la faccio Ci ho messo un po' però Ho più di ender Ne ho già due È uno spawner Dato Bene Indietro Ah quindi noi abbiamo Abbiamo anche lottato La zona dove C'è la miglior cesta Dove abbiamo Trattato subito La spada fortissima Sì è vero Che c***o Quanto ci sono qua Allora aspetta 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 Ci sono un botto qua Aiaia Fanno malissimo Dove sei? Eh sono indietro Aspetta C'erano un botto Eccoli Vai Madonna Vai Mera 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 Spacca 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 Che male Fatto malissimo Fanno malissimo Adesso si Si fanno molto male Basta Quanto dura Ma dai Che schifo Ti metto sul sushi Sul colnichi Rimane Che schifo No Ma sotto Non è ancora guardato Qui sotto No perché c'è anche lo spawner Figura Vado Vai rompi lo spawner Ti copro No 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 Uccidi prima il mondo Aia Aia Maledizio Fanno veramente male sti cosi Pensa che siamo super equipati Se non fossimo equipati A questo lo saremmo morti 20 volte Infatti ma tipo 30 40 volte anche Infatti si stanno scassando Tutte le cose che ho addosso Cioè le dobbiamo tenere buone A prendere il drago dell'endo Comunque Ok Sono stati bravi anche stavolta Cioè alla fine ce la siamo Ancavata bene Allora Mi sono dimenticato di mettere Il cartello Però vabbè Mettilo Ma c'è io? Sì Abbiamo la prima La seconda La terza Che abbiamo fatto già Senza volerlo Questa Che un pezzo L'avevamo già scoperto Però abbiamo finito di Di controllarla Quella della settimana scorsa Di come ho fatto a sopravvivere Che lo so solo io La casa subacquea delle streghe Manca The dragon slayer Che è l'ultima Hai messo? Sì Stai vedere cosa hai scritto Sono fatto avrei scritto Qualcun insulto dei tuoi Scemo killer Ma neanche se guarda Senza neanche andarci Per scoprire Lo sapevo già Quindi ragazzi Su tutte le cose che abbiamo fatto L'unica cosa che rimane ormai È The dragon slayer Quindi la Caverna del drago Layer layer Cosa vuol dire Ma fermo Slayer Slayer Giocare con Pietro Per me è sempre un piacere Anche perché facciamo Un sacco di cose insieme Io vado No non andare Vieni qua Vieni qua Muoviti Sali Veloce No perché come clickbait Nel prossimo video È l'ultima È l'ultima caverna È la più difficile di tutte Abbiamo fatto tutte e sei Manca la settima Stai buono Per cortesia Io mi chiedo Perché ancora Nobel per l'intelligenza Non te l'abbiamo dato Me lo sto chiedendo Te lo giuro Ogni tanto C'ho questo dubbio Io voglio fare Nella realtà Questa cosa Con te vicino Posso? Ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Abbiamo completato Tutti i dungeon Non so parlare Abbiamo completato Tutti i dungeon Che abbiamo trovato Attorno all'isola Tranne dragon slayer Se Pietro magari La smette Di fare queste cose Mentre faccio l'auto È meglio Grazie Bene Potevi farlo Il primo episodio Questo? Se il video vi piaciuto Se vi lasciate un commento Mi piace Anche vi risposto Il video In la descrizione Sotto che si iscrivetevi E noi ci vediamo Nel prossimo video Dove batteremo Il drago Ci ho messo l'enfasi giusta? Sì Boom No l'ho mancato Ma sei un Aspetta No vabbè Miro un po' qui in alto Miro le nuvole Vado ragazzi Sì 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 Sì